La fuga dai talebani e dall'inferno di Kabul è il comune denominatore dei 1300 profughi ospitati nel centro di assistenza sanitario di Avezzano. Nel centro marsicano è in corso la quarantena e le operazioni appena concluse di vaccinazione anti-covid-19. La ASL ha somministrato 647 dosi di vaccino dall'apertura del campo di accoglienza. Entro venerdì l'ultimo gruppo di collaboratori afghani lascerà il campo e sarà trasferito in diverse località, soprattutto fuori regione. Da lì potranno fare richiesta per avviare le procedure di asilo e per il riconoscimento dello status di rifugiati. Tanti i volontari della protezione civile, come spiega il direttore regionale Mauro Casinghini, che in questi giorni hanno allestito la macchina della solidarietà e dell'accoglienza in brevissimo tempo. Ad oggi sono stati 385 i volontari che si sono alternati per questa straordinaria missione, che sono gli stessi che poi hanno lottato contro gli incendi boschivi e sono gli stessi che ci stanno assistendo anche per le vaccinazioni. Per cui non finiremo mai di ringraziarli. Intanto il primo campo rimasto vuoto è stato già sanificato e smontato, mentre sono già iniziate le procedure di smantellamento del secondo campo. Queste persone verranno prese in carico dal Ministero dell'Interno, in particolare dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, che attraverso la rete delle prefetture provvederà al ricollocamento, come si dice, per il medio-lungo periodo. Là cominceranno il loro percorso di integrazione e là certamente la popolazione potrà essere, diciamo così, dimostrare tutto l'affetto possibile e immaginabile integrandoli veramente. Diverse le storie di vita che possono essere raccontate grazie alla straordinaria opera dei mediatori culturali afghani. Tra le tante il ricongiungimento di un fratello e una sorella che non sapevano di essere nello stesso hub di prima accoglienza, essendo stati sistemati in due campi in basi diversi. I due si erano persi di vista in Afghanistan e non sapevano di essere stati assegnati ad Avezzano. Sono contenti, sono felici di fare una vita nuova, sono pronti almeno che dica qua una terra, non è guerra, non è problemi. Ringraziamo anche loro quando dicono qualcosa, l'ascoltano, sono tranquilli e sereni. Poi tante volte quando parlo con famiglia ringrazio sempre il nostro governo di italiani, anche il nostro presidente è sempre stato aiutato, vicino, anche i bambini ne portiamo regalini, la gioccalina è sempre loro contenta di essere così.